Paffè, dunque, quindi apro l'applicazione, trovo Café Teatro, ma posso anche fare la scansione del QR code. Ti fai vedere la scansione? È velocissima, guarda, è velocissima. Ah, ok. È proprio velocissima. Schiaccio 11 euro, faccio invia. E ora vedo che Café Teatro ha accettato il mio pagamento e lo vedo nella transazione Café Teatro, meno 11 euro. Perfetto, grazie. Grazie.